Altro secondo consiglio, guarda nella direzione opposta, il primo detto non prendere il panico, guarda nella direzione opposta. Esempio, cominciamo a capire, non c'è solo la recessione globale, cioè se ci pensate c'è anche una depressione globale per motivarci dopo pranzo, no? Quindi non è solo una questione economica, le persone, abbiamo detto, ridurranno il livello di empatia, quindi saranno carenti di quello, proprio per tutti i distanziamenti, la riduzione della vicinanza sociale, distanze sociali, eccetera, eccetera. Perché vi ho messo ravanelli o biscotti? Perché ho trovato questo esperimento interessantissimo, non so neanche come gli è fatto venire in mente di farlo, però era una figata. Hanno preso due gruppi di persone, all'università in Germania, li hanno messi davanti a una situazione, gli hanno dato due gruppi di persone con due ciotole davanti, una ciotola di biscotti appena sfornati, gli altri avevano una ciotola di ravanelli. A un gruppo era stato detto, voi dovete mangiare solo i biscotti, ma non i ravanelli. All'altro gruppo, simultaneamente, dovete mangiare i ravanelli, ma non i biscotti. Questi, alla fine dell'esperimento, hanno rispettato le consegne, cioè quindi c'è le consegne, quello che gli hanno detto hanno fatto, quelli che dovevano mangiare i biscotti, hanno mangiato i biscotti, quelli che dovevano mangiare i ravanelli, hanno mangiato i ravanelli. Poi dopo, perché non è finito qua l'esperimento, la cosa divertente in realtà era dopo, perché dopo gli hanno dato un problema particolarmente difficile da risolvere, senza una reale soluzione. Quelli che avevano mangiato i biscotti sono rimasti tipo 28 minuti e qualcosa. Quelli che avevano mangiato i ravanelli hanno mollato molto prima, tipo 7-8 minuti. Cioè, prima di abbandonare e dire non si può risolvere, ci hanno messo molto meno. Questo cosa gli ha fatto capire? Che quando una decisione è complessa, l'attenzione, cioè il livello di assorbimento, perché è come dire, anche se la scelta è tra ravanelli e biscotti, devi metterti più autocontrollo. Perché no, a me piacerebbe mangiare i biscotti. Mi hanno detto di non farlo, mangio i ravanelli, va bene, lo faccio. Ma questo, già solo questa semplicissima, banale decisione di autocontrollo, ha portato sì che il momento dopo quelli avessero meno risorse. Sì, ma a me cosa interessa per l'azienda? Semplicemente perché tenete presente che è un periodo, questo, molto stressante, quindi le decisioni, se noi continuiamo a guardare nella direzione dello stress, ci porteranno in una situazione più difficile da gestire per tutti. però la cosa positiva è che in tutti questi squilibri, quindi siamo squilibrati di nostro, c'è una situazione stressante che ci squilibra, in questi squilibri in realtà è lì che c'è lo spazio per creare nuovi prodotti e servizi. Questo era il punto che volevo arrivare, cioè è proprio lì, se io capisco il mercato, se io guardo nella direzione opposta, quindi non mi fermo sul problema del momento, ma guardo che cosa manca, quel gap, lì c'è lo spazio, cioè i prodotti e servizi nascono dal colmare squilibri che naturalmente si creano nel mercato. Quindi bisogna trovare dei modi, capire dove ci sono degli spazi insoddisfatti, questi spazi creano un nuovo prodotto o servizio. Chiaro che il cambiamento non piace a nessuno, perché per quanto uno anche lì lo promuova, il cambiamento tutta la vita, in realtà statistiche ci dicono che il 10% delle persone ama il cambiamento, il resto vorrebbe anche che le cose rimanessero come sono prima. Quindi tenete presente anche questo, che mi collego a quello dicevo all'inizio, se non trovate un gap nuovo, vuol dire che, gap nuovo per soddisfare i clienti, quindi i bisogni in quello squilibrio che hanno i clienti e voi non avete nessuna proposta da dare su quel tema, vuol dire che come impresa non state cercando di fare quell'evoluzione, siete ancora fermi alla resilienza. È un peccato, cioè nel senso è un peccato ma vuole essere una provocazione positiva.